benvenuti a tutti sul canale youtube di omeko come al solito io sono federico e oggi vediamo un'attrezzatura oggi è un video dedicato alla demolizione precisamente abbiamo qui incartata un nuovo arrivo bellissimo nuovo di fabbrica da questa ditta italianissima osa oggi abbiamo un frantumatore fissolo fpv 20 categoria 200 quintali 250 puntali questo andrà montato su un bellissimo escavatore volvo e c 220 che dite lo scartiamo via la vita all'insieme scappiamo in regalo mamma mia che bella questa in particolare andrà a fare un bellissimo lavoro andrà a demolire le traversine ferroviare si metterà lì e dalla mattina alla sera mangerà tutte le traversine non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Don't let it go, don't let it show, we all know just how this goes. Don't let it go, don't let it show, we all know just how this goes. Come vi dicevo, questo è un prodotto completamente made in Italy, hardox, di prima qualità e ragazzi con un occhio anche al prezzo perché non è quella che costa di più. Però è molto, molto carina. Osa FPV20. Veramente molto, molto bella. Sella già fatta, come vedete, made in Italy, scritto anche qui, eh? Tutto vero, bella. Ok ragazzi, chiaramente il mondo della demolizione è un mondo molto importante e qui da noi potete trovare sempre attrezzatura in vendita e da noleggio di tutte le taglie, sia nuove che usate. Quindi, date un occhio al nostro sito omego.it perché senz'altro troverete la soluzione adatta alle vostre necessità. Come al solito, fate i bravi, buon lavoro, ciao!